Buonasera a tutti, grazie Presidente e grazie anche per questo emozionante ricordo. Le comunicazioni che volevo fare questo Consiglio Comunale riguardano la riabilità e le modifiche che dovremo affrontare con la chiusura comunicata da autostrade in merito alla demolizione del ponte che collega Arese a Rò, via Capacitana che variera su Rò. Per fare prendere rotto il Consiglio Comunale riguardano la cronistoria di questi ultimi giorni un po' convulsi, visto l'iniziativa inaspettata rispetto alla chiusura. Il 14 gennaio ho partecipato a un tavolo tecnico che era convocato per la risoluzione dell'interferenza legata ai lavori dell'auto, dell'autostrada, unico sindaco presente, non più perché non è un'unione tecnica, e tra i paesi più volti, Arese, Lainate e Rò. In questa occasione è stata annunciata non aspettatamente la chiusura del ponte. Allora ho chiesto e preteso che si svolgesse ad Arese una riunione che avesse come interlocutori, tutte le cittadine dell'interland, quindi compresa Pollate, non convocata e Carabagnate, perché è chiaro che l'interruzione di questo collegamento che è uno dei tre fondamentali sopra l'autostrada sul nostro territorio, ha ripercussioni non solo su Arese, ma su tutti i paesi circostanti e dovrà essere gestito con una forte coesione tra i territori. In questa riunione del 22 sono state date, le date precise che sono state quelle che ho comunicato tramite il comunicato stampa e a mezzo stampa della chiusura a partire dal 20 febbraio. Il comunicato stampa a tempo di record è stato fatto il 23, andando a cercare di contingentare il più possibile i momenti di comunicazione, i tempi tecnici, in modo che non si ripetesse quanto era avvenuto in merito invece alla comunicazione della chiusura dello svincolo autostradale, che è arrivata 14 giorni prima, mettendoci nell'impossibilità di informare in tempi più lunghi la cittadinanza. In questa stessa riunione è stata definita la convocazione di una riunione delle polizie locale, sempre dei paesi coinvolti, anche sull'iniziativa di Arese, e questo incontro con le polizie locali si è svolto il 27. Un tema fondamentale di questo incontro era definire viabilità alternative, segnalità provvisoria, comunicazione, quindi che avverrà sia tramite manifesti che tramite volantie, tramite direttamente ai cittadini e anche nelle scuole, perché sappiamo che al di là delle persone assidite da Arese, le persone che arrivano per i servizi che sono sul nostro territorio, come scuole, devono e hanno la necessità di organizzarsi per tempo e di dover affrontare una condizione sicuramente svantaggiosa in termini di tempo di raggiungimento delle scuole, sicuramente, così come affrontare per tempo e stabilire i itinerari per i percorsi del trasporto pubblico, così come quelli utilizzati e a mesi di emergenza coinvolti appieno nella necessità di essere costantemente informati. a questo sforzo organizzativo molto serrato ma molto in modo necessario è stato poi affiancato anche una necessità di formalizzare da parte di Arese e non solo alcune richieste proprio per fronteggiare questo momento che sicuramente sarà un momento critico, un momento difficile per tutti noi che viviamo a Arese e raggiungiamo in paesi limitrofi e quindi è chiaro che in una comunicazione fatta a Società Autostrade e a Ministero delle Infrastrutture per conoscenza della Regione Lombardia, è una comunicazione che andrò a leggervi, sono state precisate quali sono le conseguenze di questa chiusura dovuta alla contingentazione dei tempi di lavoro, essendo questa un'opera, cioè la realizzazione della quinta qualsiasi dell'A8 necessaria per resto, i ritardi dovuti a ragioni indipendenti da noi ovviamente hanno reso necessaria una contingentazione della primo programma, sovrapponendo la fase di smantellamento del ponte a quella di realizzazione del nuovo ponte, l'esito è quello che dovremo affrontare nei prossimi giorni, cioè la chiusura di una strada necessaria di collinamento. La prima comunicazione che vi leggo, quella che vi dicevo per le autostrade, per le strade delle infrastrutture, è un po' lunga ma credo che sia importante averne piena comunicazione del prossimo stile comunale. Oggetto, interventi connessi alla realizzazione della quinta corsia dell'A8. A seguito degli incontri avvenuti negli ultimi giorni presso la Regione Lombardia e il Comune di Arese, volti a valutare le criticità connesse alla caratterizzazione degli interventi ad essere collegati, inerente alla realizzazione della quinta corsia dell'A8, in funzione del grande evento Expo 2015, si ritiene fondamentale che vengano poste alla vostra attenzione e inevitamente valutate, a fine prima costruttiva e proficua collaborazione degli enti, le seguenti istanze. Occorre premettere che il territorio dei Comuni immediatamente con termine all'area di Expo 2015 si trovano da tempo in una situazione di grossa difficoltà, in particolare del sistema di collegamento stradale, dovuta alla contestuale presenza di numerose attività in sede di aria che riducono naturalmente il flusso del traffico già di per sé congestionato e in situazione critica. In questi mesi, con grandi difficoltà, le amministrazioni hanno gestito la situazione in uno scritto di collaborazione e nell'ottica del superiore interesse che riveste per il positivo esito di Expo per l'internazione. E se quindi cercato, con la società autostrada, la regione Lombardia, la città metropolitana di Milano, Exprovincia, di mettere in campo, anche con le sorse proprie tutte le azioni a livello di infrastrutture, servizi e informazione, territori disagi, cittadini e alle imprese del territorio. La necessità di raggiungere l'obiettivo da tutti condiviso di portare a compimento le opere infrastrutturali sta costruendo gli enti, gestori a porre in campo azioni che necessariamente comune in gravissima difficoltà i cittadini e le imprese del territorio. A fine di non venire meno il consenso e la condivisione di questo importante lavoro in corso da parte del territorio che noi rappresentiamo, sono state ipotizzate una serie di azioni per le quali risulta indispensabile che vengano idoneamente supportate da società autostrade a fine di rendere meno impattanti gli interventi territoriani che devono necessariamente essere attivati per poter accelerare i temi di realizzazione dell'opera infrastrutturale e in particolare la quinta corsia della 8 e il condensamento della Romoza. La sospensione temporanea dei collegamenti fra il Comune di Arese e Ro a mezzo della strada che collega la località Valera di Arese alla frazione di Passinana di Ro per la demolizione del ponte sulla 8 potrebbe determinare infatti un congestionamento ulteriore, se non paralisi nelle ore di punto di traffico di tutta l'area che vada da ex strada statale 33 in Aresina alla strada statale 33 del Sempione. Difficoltà nel raggiungere strutture pubbliche strategiche quali scuole dell'obbico, scuole superiore, presidi sanitari e ospedalieri, modifiche dei tracciati del trasporto pubblico locale, aumento dei volumi di traffico all'interno dei centralitati con incremento delle problematiche dovute all'inquinamento e alla sicurezza stradale. Difficoltà per i cittadini a svolgere no male attività di lavoro, professione e vita familiare. Coscenti e responsabili che non è corretto pure delle serie obiezioni alle azioni degli enti, ma è necessario, pur con sacrifici, collaborare, sono state proposte una serie di azioni che hanno visto la società autostrade in attento ascolto, ma le quali ci sentiamo un positivo riscontro e supporto economico, in particolare accanto ad un capillare e tempestiva campagna informativa tra i cittadini e l'attività economica, certe modifiche stradali che temporaneamente verranno attivate, sono state individuate le seguiziazioni. L'individuazione di percorsi alternativi a quelli che verranno interdetti, l'individuazione di nuovi tracciati del trasporto pubblico, la necessità di incentivare l'utilizzo della rete autostradale al fine di evitare l'attraversamento dei centri urbani. Per tale azione viene richiesta alla società autostrade un suo fattibile contributo e più precisamente la necessità di una capillare azione informativa atta a ridurre i disagi per i cittadini e i danni alle attività economiche, che comporterà una spesa di qualche mila di euro che si ritiene possa essere sostenuta direttamente dalla società. L'utilizzo massivo della rete stradale comunale esistente attorno all'intersezione per la 8 dei nostri comuni ha in questi mesi, e lo sarà ancora di più nelle prossime settimane, usurate antetempo i manti stradali che richiederanno necessariamente interventi straordinari da parte dei comuni. Le modifiche del trasporto pubblico locale per le settimane correnti per l'organizzazione delle opere in trattazione renderanno necessario un aumento di chilometri delle linee pubbliche i cui costi dovranno essere rimborsati dai comuni alle società che giustiscono il trasporto pubblico. In un quadro come quello rappresentato non può essere negato ai territori un segno di sostegno e di condivisione per gli sforzi che vengono richiesti e che si ritiene possa essere per rappresentato dall'attivazione per il periodo della caratterizzazione delle opere della 8 e, se possibile, per tutta la fase 10 del 2015, di esenzione dei cittadini residenti e per le attività che hanno sede nei nostri comuni del pagamento del pedaggio del tratto stradale della 8 in trattazione attraverso il TELPAS. Tale decisione permetterebbe di favorire in modo concreto, così come l'ho spiegato, e di trasferire volumi in traffico che dovrebbero necessariamente attraversare un territorio fortemente organizzato e congestionato, non che centri urbani e densamente ritatti verso la nostra grado. Tale richiesta è stata più volta posta dal Comune di Arese, dal Comune di Dainante e dal Comune di Rov nelle sedi istituzionali competenti a fronte di diversi eventi e situazioni, ma oggi, alla luce di quanto sopra, appare che detta richiesta non possa essere lasciata senza positiva risposta. La gravità della situazione e la necessità di costruire e rafforzare un accordo collaborativo fra istituzioni e cittadini si realizza anche attraverso queste scelte concrete che aiutano a risolvere le difficoltà di ogni giorno e lasciano meno solo i nostri cittadini davanti ad esigenze di interesse più generale. In conclusione, potremmo così riassumere le nostre richieste. Si ritiene necessario che la società autostrade si attivi in questi giorni nei prossimi, sulla base delle esigenze che verranno rilevate, a seguire le donne in campagna informativa secondo le modalità concordate con i Comuni, al fine di segnalare le modifiche temporali dalle verità e dedicare i percorsi alternativi. 2. Contribuire ai maggiori corsi che i Comuni dovranno sostenere per le modifiche delle tracciate del trasporto pubblico. 3. Eseguire, prima dell'apertura di Exco 2015, un intervento di ripriso totale del manto di usura delle strade e sede stradali comunali più fortemente interessate dall'aumento di traffico, conseguente alla cartellizzazione dell'A8, con particolare riferimento a quanto già ha convenuto per il Comune di Renate. 4. Infine, ma non certo per importanza, anzi vorremmo dire che rappresenta la prima richiesta in assoluto del territorio, l'attivazione per il tempo residuo della cartellizzazione dell'A8 e possibilmente a tutta la grada del grave evento Exco 2015, dell'esenzione dei pedagli autostradali a mezzo telepass, del tratto e l'esame da parte dei cittadini residenti e delle attività economiche presenti nei nostri Comuni. In considerazione dei tempi previsti nel nuovo programma e dalle necessità di fornire cittadini la più completa informazione, siamo certi che vorrete dare un tempestivo riscontro ancora presente che si auspica, possa dare conferma della vostra disponibilità e attenzione per il territorio su cui state intervenendo. A seguito di tale riscontro sarà nostra con un'opera di finire in tempi previssimi nel dettaglio con i funzionari del Ministero della Società Autostrada e l'entica dei contributi e delle opere di cui i precedenti punti 2 e 3. Corneli saluti, la lettera è confermata da me, dal Sindaco di Renate, Pietro Romano e dal Sindaco di Renate, Alberto Nantonio. E questa rappresenta la prima delle formalizzazioni rispetto alle richieste fatte a Società Autostrade e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La seconda è invece comunicazione, è un'unicazione che ho fatto personalmente a Dottor Sala, commissario unico delegato al governo e amministratore delegato di Expo, col quale stiamo in procidio di definire un incontro, di formalizzare la lettera di un incontro, ma nella richiesta formale di incontro ho tenuto a precisare e a richiedere alcune cose. Egregio Dottor Sala nella formalizzare la richiesta di incontro e anticipo le motivazioni dello stesso nella presenza interettora. In questi anni i cittadini a Resina hanno vissuto il riposso di un'area soggetta a conto di trasformazione subendo disagi del processamento del traffico. Sul nostro territorio verrà realizzato il più grande parcheggio di 11.000 posti auto per raggiungere il sito esclusivo. Dal parcheggio partirà un pullman ogni 90 secondi e le dolargli punta. Inutile ribadire quanto tutto ciò che ci tengo a sottolineare deve da correre l'autostrada, perché alimento non è specificato ma così è concordato. Inutile ribadire quanto tutto ciò sia impattante sulla nostra città, in un momento in cui fra l'altro ci vediamo costretti a rilefinire, seppure a tempo determinato, la nostra viabilità anche a seguito della chiudura del punto di Passirana, prima di aver realizzato un conto e finalizzato l'allargamento dell'autostrada 8. Alla luce di quanto sovraesposto sono pertanto da anticiparmi la richiesta di prevedere che i nostri cittadini fanno di compensazione per i disagi già subiti e che seguiranno. Un'attivazione potrebbe essere quella di concedere biglietti gratuiti per i cittadini e resini. Altre realtà hanno già sperimentato questa formula, per esempio a Genova i biglietti della quale sono stati resi gratuiti ai residenti di Genova e provincia. Riteniamo che la partecipazione a un evento come quello di Enzo 2015 possa essere un gesto importante per facilitare il coinvolgimento dei cittadini e dei territori interessati alle trasformazioni in atto. Cerca di un positivo riscontro, ricordo i miei più cordiali saluti e la ringrazio anticipatamente. Queste le due comunicazioni credo che fosse necessarie e importante con i video concorsivi. Grazie.